Lo street food oggi è un stile alimentare molto diffuso, dovuto sicuramente alla ristrettezze del tempo disponibile che oggi abbiamo rispetto al passato per andare a casa, fare un pranzo o una cena con gli amici o con i familiari e con una certa calma. Il vantaggio può essere quello di poter avere la disponibilità di alimentarsi, magari anche se non riusciamo a fare delle scelte perfette, evitando così di saltare i pasti. Il problema può essere legato al fatto che molto spesso non facciamo delle scelte consapevoli e ci basiamo più sul piacere, sul ritrovare cibi con eccesso di grassi o di zuccheri rispetto magari a quello che dovremmo fare in relazione alle nostre individuali esigenze. Quindi se non saltiamo i pasti dovremmo invece imparare a fare delle scelte anche con questo sistema leggere relative alla nostra individuale stato di salute, alle nostre esigenze corporee e imparare a bilanciare questo pasto con quello della sera o del pranzo. In realtà oggi abbiamo la disponibilità di trovare per strada anche degli alimenti salutari come la frutta, delle verdure, quindi dei frullati, dei centrifugati che possono portare all'organismo vitamine, antiossidanti utili soprattutto nella stagione calda quando abbiamo anche una maggiore necessità di acqua per l'eccessiva sudorazione e di vitamine e di minerali. Quindi se riusciamo a capire quello che ci offre la strada potremmo anche con questo sistema non nuocerci e avere anche dei vantaggi. Grazie!